buongiorno a tutti cosmo bike 2020 iniziato così bici appena lavata e carichiamo arrivati bici nel furgone bici nel furgone adesso entriamo guarda in del garda tra poco nel garda ci sarà un altro evento buonello tecchia che è la che c'è da un fondo su strada possiamo due parole intanto per lanciarla perdi metti in titanio appunto acqua in giù ancora dentro bene e mai tu hai le brugole no non quasi quasi e qua in Santa Cruz denim e casquille naturalmente foto è già fatta qua in fiera c'è anche gente strana che viene con i jeans eccoci nel backstage di Vigina 2020 stiamo aspettando ancora Marcello e Stefano che non arrivano più ottimo questo qua è di merda che questo è questo è un letto in faccio l'angolino mi cazzo nera questo qua la sua dietro la pizze il bello del backstage i panni nazi a mangiare c'è un po' di pressione però 3, 2, 1 ZITI TUTTI sta per iniziare sì, sì, ben, show Italia non vedo ok, take 61 3, 2, 1 ZITI TUTTI sta per iniziare IG, C, M, Italia, show bravo usciti dal casino adesso andiamo ad allenarci per fare un giretto in bici speriamo di negarci la lecchia per questa strada è per strada il furgone lo devo lasciare qua tra vidi e punzione per strada grazie 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 grazie